e successivamente nella seconda pagina dove nell'ambito dei fondi europei su gruppo regionale FESRA, indicando la somma impegnata per il comune di 13.385.000 dispari, si afferma erroneamente che fra gli obiettivi programmatici ci sono l'asse 5 che parla di prevenzione dei rischi naturali e tantropici e l'asse 6 per la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. A ricorda del vero e in accordo alla normativa su tali fondi, ITCS, che significa Programmi Integrati Città Sostenibili e Dato all'Unione Città Media, riguardano esclusivamente e prettamente l'asse 10, cioè inerente allo sviluppo urbano sostenibile per l'attuazione dell'asse 10 del BOFESRA Campania 2014-2020, il quale è, come sappiamo, il documento di programmazione della regione e costituisce il quadro di riferimento per l'utilizzo delle risorse comunitarie del FESRA Campania 2014-2020, per il periodo di programmazione in corso. Pertanto, quando la regione stanzerà dei fondi per i comuni, per gli assi 5 e 6, si potrà attingere da tali fondi, per quel tipo di intervento, ma non certamente da questi fondi BICS che valgono solo e esclusivamente nell'asse 10, anche perché l'iter procedurale e la seguente valutazione dell'autorità di output della regione non ha provvedente tale progetto, presentato nell'asse 10, che non prevede interventi di tipo infrastrutturale. Detto questo, mi avvio anche alla conclusione, dando la possibilità al Consiglio Comunale di esprimersi in merito alla mozione di indirizzo, in modo democratico e secondo proprie valutazioni oggettive e soggettive. Inoltre, a supporto di quanto detto, sono in possesso di documentazioni inerente sia ai FESRA che ai BICS e documenti ufficiali della regione Campania. Resto a disposizione dei consiglieri per eventuali consultazioni.